ciao benvenuti in questo nuovo video di planning vi faccio vedere come ho decorato l'ultima settimana di gennaio prendo un foglio colorato come quelli che vi ho mostrato nella settimana precedente prendo le misure e mi ritaglio un rettangolino e utilizzando il biadesivo vado a ricoprire la prima sezione in modo che così mi venga bello colorato poi prendo questo washi tape che trovo meraviglioso l'avevo preso a lidl un po di tempo fa e inizio a decorare i vari spazi aggiungo questo sticker in cui segnerò le cose che devo assolutissimamente fare questa settimana e faccio qualche decoro con la penna fluo poi scrivo i vari giorni e continuo le decorazioni con le strisce colorate con il washi tape inizio ad aggiungere gli sticker e le varie sezioni in cui scriverò non so magari qualcosa di particolare segnerò le cose da fare e continua a decorare quanto amo questo gattino in versione sailor moon se piace anche a voi pollice in su poi prendo questo set che vi ho mostrato nell'ultimo haul e attacco questo post it in cui andrò a scrivere qualcosa lo lascerò semplicemente per decorazione e continuo ad aggiungere i vari sticker questo nastro preso dai cinesi mi piace tantissimo e aggiungendo semplicemente del nastro biatesivo si trasforma in un washi tape comunque sul mio instagram di solito aggiungo le foto o degli acquisti che faccio delle cose pucciose che vedo in giro con una penna fluo ripasso i contorni così per rendere tutto un po più colorato e per il momento non aggiungo altro perché lo andrò a fare poi giornalmente segnando il tempo l'umore del giorno se carico un video su youtube i film che vedo se leggo il libro se mangio qualcosa di particolare tipo pizza sushi quindi poi le sezioni si andranno a riempire completamente come al solito spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato degli spunti leggete giù nell'info box perché vi pongo una domanda e aspetto di leggere le vostre risposte prima di fare il prossimo video planning vi auguro quindi una buona giornata e se viva ci vediamo al prossimo video ciao